Appuntamento con il primo successo in campionato rimandato per la Prisma Taranto Brutta serata in quel di Monza Finisce con un netto 3-0 per la formazione di casa 25-14, 25-10, 25-17 I Brianzoli mettono in difficoltà sin dall'inizio la formazione ionica Che subisce ben 10 ace Mister Mastrangelo fa turnover inserendo prima Raffaelli su Lanza Poi Extan su Gutierrez Ma non basta anche Gargiulo e Bonacci fanno ingresso in campo E nel terzo set sembra esserci una timida reazione Ma per quanto riguarda Taranto tutto da rifare Bisognerà attendere la partita di mercoledì sera Per ritrovare almeno uno spirito combattivo in casa contro Perugia Ma non sarà per niente facile Taranto che la partita con la diagonale De Haro-Rass Dal centro Alletti-Hendrick In posto 4 Lanza-Gutierrez Libero-Rizzo Una partita come detto condizionata dai tantissimi ace di Monza Mai in equilibrio se non proprio nei primissimi scambi Come avvenuto nel corso del primo set Dove dal 6-4 si è passati all'11-6 E via via fino al 25-14 Nel secondo parziale addirittura Monza si era portata avanti 5-0 Salvo finire poi anche in vantaggio come detto nel secondo set E così si è chiusa rapidamente la partita in meno di un'ora e mezza Per quanto riguarda Taranto come detto Obiettivo riscatto contro Perugia Mercoledì sarà una partita difficilissima Però Taranto deve cercare soprattutto di reagire dal punto di vista mentale Per quanto riguarda Taranto come detto